ok ci siamo ciao a tutti e benvenuti anche oggi in questo nuovo video io sono cristian e mi raccomando come sempre se ancora non mi segui mi raccomando iscriviti qua sotto c'è un pulsantino facile faccia iscriviti non si può sbagliare c'è una cosa proprio c'è solo io potrei sbagliare una cosa del genere quindi ok quindi oggi di cosa parliamo in questo video non parliamo sostanzialmente di progetti non parliamo di macroeconomia di finanza eccetera eccetera parliamo di qualcosa per cui avevo già intenzione di fare un video perché potrebbe essere una cosa interessante per diverse persone soprattutto per chi in questo periodo mi sta seguendo un periodo di più lo vediamo tra poco come dicevo non andiamo a parlare oggi in questo specifico video di progetti di valute di come sta andando il mercato di notizie di cosa è successo se è esplosa qualche banca se è esploso qualche progetto se è successo qualcosa interessante oggi vi parlerò di quello che praticamente è stato in grandi linee il mio primo anno da content creator non mi definirò mai crypto influencer ci mancherebbe ancora quello che faccio è divulgazione informazione per la maggior parte delle volte spero di poter aiutare la maggior parte delle persone che mi ascolta che mi segue a capire qualcosina in più nell'ambito criptovalute economia e quant'altro insieme a me perché io insieme a voi sto studiando sto imparando giorno dopo giorno non mi riterrò mai un professionista non mi riterrò mai un esperto perché penso che soprattutto in questo mondo che corre velocissimo quello dell'economia della finanza quello delle criptovalute soprattutto che ha notizie ogni 5 minuti ci si ha sempre da imparare e non ci si possa mai ritenere esperti ovviamente se si hanno le nozioni di base e si sanno valutare progetti gestione del rischio tutto quello che possono essere le volatilità del mercato sicuramente siamo una marcia in più e magari per analizzare approfondire la notizia invece che metterci una settimana come ci sto mettendo io adesso ci si possono mettere poche ore e quindi essere sicuramente più sul pezzo capire un attimino i più collegamenti capire come muoversi eccetera però da quel punto lì siccome penso di avere ancora tantissima strada davanti a me non mi sentirete mai dire che sono diventato un esperto un formatore un guru queste cose qua assolutamente il focus del mio canale sarà praticamente sempre quello di informare e divulgare comunque tutte le notizie che comunque apprendo anch'io giornalmente quindi cercare di analizzare sperando che la community cresca e sia sempre più attiva e che nei commenti anche possa partecipare a quello che sarà il video per darmi ovviamente anche degli spunti degli stimoli nuovi per i prossimi contenuti detto questo analizzando praticamente il mio primo anno tra virgolette di content creator posso ritenermi abbastanza soddisfatto sicuramente quando si inizia un progetto di questo tipo un percorso di questo tipo si pensa che si possono raggiungere vette incredibili nel giro di pochissimi minuti di arrivare a milioni e migliori di follower andare agli eventi batticci qui di qui ti ho riconosciuto di la fammi l'autografo di la sono qua fino a giovedì per le autografi ma magari ma no non non succede a parte rarissimi casi ma anche in quei casi parliamo di persone che comunque si sono formate a priori nel momento magari in cui aprono un canale iniziano a fare contenuti per il pubblico non hanno iniziato il giorno prima a conoscere questo tipo di mondo non hanno iniziato il giorno prima a formarsi e a capire come girano le cose magari arrivano da anni e anni di formazione anni e anni di batoste di calci nel culo di stop loss presi e porte in faccia poi effettivamente decidono di fare divulgazione di fare formazione al che hanno magari anche già degli appoggi hanno già anche delle conoscenze comunque importantissime di conseguenza i contenuti che portano sono così tanto di valore che le persone non possono che ascoltarli quindi sicuramente come dicevo il mio primo anno da content creator mi ha reso abbastanza soddisfatto siamo quasi a 1000 iscritti sul canale siamo circa 980 in questo momento mentre registro iscritto più iscritto meno spero di arrivare ovviamente ai 1000 iscritti il possibile che non è una questione di oh mio dio youtube mi paga anche perché non c'è solo quel punto da centrale per essere remunerati dalla piattaforma e poi parliamoci chiaramente youtube non è che mi farà diventare milionario anzi c'è gente che ha un canale giganteschi rispetto al mio e comunque non è che guadagni una barcata di soldi sicuramente il focus in questo momento è la formazione la divulgazione poi se ci sarà la possibilità di avere una piccola entrata extra grazie youtube ben venga ci mancherebbe non nascondiamoci dietro un dito sicuramente quello può essere molto interessante per chiunque ma il fatto dei 1000 iscritti è una questione più che altro personale per dire ok questo è il primo tassello dopo di che ce ne saranno sicuramente altri più importanti se così vogliamo vederlo ma questo anche a livello di autostima di dopamina aiuta quindi vediamo di spingere ancora un pochino per arrivare a questi stra fantastici maledetti mille iscritti grazie detto questo come dicevo il primo anno sicuramente è stato soddisfacente sia a livello quindi di numeri di ritorno per quello che mi riguarda sul canale ma è anche stato soddisfacente a livello di numeri in uscita e quali sono i numeri d'uscita semplicemente i contenuti che sono riuscito a portare sul canale perché ho raggiunto e superato i 150 video all'interno del canale video magari più corti video magari più lunghi più tecnici più nello specifico di un progetto video oscillate perché ragazzi ci sono anche quelli soprattutto all'inizio in cui la persona ha bisogno comunque di farsi conoscere un po di più ci sono anche video di progetti che mi contattano mi hanno contattato nel corso del tempo per farsi promuovere all'interno del canale poi comunque sono entrato è anche vero sono entrato in un momento in cui c'era ancora del live all'interno del mondo cripto quindi alcuni progetti erano ancora interessati a farsi promuovere anche dai piccolissimi canali come il mio di conseguenza e li ringrazierò tutti quanti perché comunque mi hanno permesso di avere un contenuto in più da portare sul canale aveva della visibilità all'interno della loro community piccolo o grande che fosse hanno comunque creduto nel mio canale alcuni più di altri sicuramente e mi hanno quindi permesso di avere anche un minimo di sostentamento per riuscire ad aumentare quello che è stato l'introito sul canale sia a livello economico quindi a livello mio personale ma anche a livello di investimento per quello che riguarda il canale non mi dimenticherò mai che un progetto mi ha permesso di avere anche questo materiale tecnico per potermi portare avanti e riuscire a portare più qualità sul canale nonostante ogni tanto mi faccia completamente impazzire perché non so perché non registra bene l'audio però piano piano sto imparando anche da quel lato lì a muovermi sicuramente questo canale mi ha permesso anche di sbloccare quella timidezza magari di parlare davanti a una videocamera perché non avete idea di quanti me lo dicano magari mi chiedono come cavolo fai a starteneli a registrare davanti alla videocamera io mi impappinerai ogni due secondi state tranquilli che capita anche a me tipo sempre se devo stare a guardare magari anche i video più tecnici volano cristia madonne come se non ci fosse un domani perché magari mi impappino per dire due parole di fila in questo caso qua è un video più discorsivo parlo di me è molto più semplice ma se stiamo a guardare i video tecnici vado fuori di testa ogni tanto figuriamoci se dovessi paragonarmi magari a qualcuno dei miei colleghi e amici che ho conosciuto anche agli eventi e di quello parliamo troppo che salgono sul palco magari a parlare davanti a centinaia di persone lì siete in pappini di massacra cioè quelli più cattivi come quelli che capiscono effettivamente tutto il lavoro che c'è dietro non lo fanno però sappiamo benissimo come funziona il mondo in quel caso lì mi viene l'ansia da soltanto a pensare di dover fare una roba del genere collegandomi agli eventi questo canale mi ha permesso di fare networking a livelli eccezionali ho conosciuto persone fantastiche agli eventi che non solo mi hanno dato delle nozioni importanti mi hanno spiegato davvero tante cose mi è piaciuto e mi ha motivato poterli ascoltare riuscire a prendere nozioni e cogliere cose importantissime a livello tecnico a livello pratico ma oltre a quello mi hanno dato una grandissima mano anche a livello umano mi hanno spiegato come muovermi in determinare situazioni come gestire altre situazioni quindi sicuramente al di fuori del network marketing come lo conosciamo e come magari è anche stra abusato come parola questo metodo se così lo vogliamo vedere di fare network è stato forse il migliore che mi sia mai capitato mi ha dato la possibilità di conoscere sarà stato contatto appunto con content creator che non solo sapevano quello che stavano dicendo ma che erano già passati da tutti gli step per cui io sarei comunque passato nei mesi successivi quindi mi hanno permesso anche di evitare determinati errori magari di affrontare gli errori in modo diverso quindi sicuramente è stato fantastico da quel lato lì è stato fantastico ci sono contatti che ho mantenuto a distanza di un anno un anno e mezzo con persone che magari non sento regolarmente ma che nel momento in cui ho voglia di sentire per chiedere un consiglio ci sono e mi danno sempre una mano e spero un giorno di poter ricambiare sicuramente il favore detto questo come dicevo a livello di numeri il canale sia in entrata che appunto in uscita ha dato tantissime soddisfazioni a livello personale e spero di poter riuscire a portarmi avanti anche nei prossimi mesi a livello economico non mi posso lamentare perché come dicevo anche lì nel corso dell'anno scorso quando c'era ancora un po di hype all'interno del mercato delle criptovalute anche a livello economico è stato piuttosto soddisfacente non ho portato a casa chissà che cifra ci mancherebbe ancora però devo ammettere che visti i progetti e quanto pagavano comunque anche per contenuti come dicevo di un canale microscopico come il mio non mi posso lamentare non oso immaginare il momento in cui torneremo poi in bull market e spero di avere un canale comunque più grande e spero di essere diventato soprattutto molto più competente anche determinate in determinate situazioni determinati settori non oso immaginare quello che potrebbe essere il potenziale di un canale youtube come può essere il mio come può essere quello di tanti altri quello sicuramente dal lato tecnico mi rendo conto e sono molto contento di questo di essere diventato anche più tecnico appunto e molto più consapevole del fatto che va bene il referano bene la scillata ma è molto più interessante molto più importante riuscire a portare contenuti che effettivamente abbiano un valore o altri fuori dell'informazione dalla divulgazione ma che siano effettivamente utili per chi mi sta ascoltando stiamo a guardare per dire il massimalismo subito sul bitcoin che sto approfondendo anche lì perché non mi ritengo massimalista ma perché non ne so ancora abbastanza per quanto io stia studiando sicuramente bitcoin è un punto focale e fondamentale lo sarà della mia prossima crescita a livello economico ma soprattutto proprio appunto il livello economico c'è tantissima roba da sapere e non posso pensare di non conoscerla e lo dico tutte le volte non si può pensare di non conoscere l'economia di base e comunque tutto quello che gira attorno alla macroeconomia se si vuole conoscere il mondo delle crypto quindi sicuramente consiglio che darò sempre spassionato questo è un consiglio finanziario ficcata in testa studiate studiate sempre tantissimo questo ve lo metto un cartellone studiate sempre non pendete dalle labbra di un formatore piuttosto che da un altro ma come ho sentito una bellissima frase in un podcast qualche giorno fa sarebbe bello essere talmente bravi e preparati su un argomento da riuscire a mettere in discussione quello che il formatore da cui noi prendiamo ispirazione dice sarebbe bellissimo essere talmente preparati appunto da riuscire a mettersi quasi alla pari con questa persona e riuscire a discutere in maniera civile in maniera costruttiva per uscire con un punto di vista magari completamente diverso ma migliorato detto questo speravo di non fare un video eterno per parlare di quello che è stato il mio primo anno da content creator ma ci tenevo anche a fare un video di questo genere il setup sta piano piano modificandosi perché ci sono stati un po di cambiamenti ma cercherò di migliorare anche sull'aspetto audio video detto ciò direi che ho parlato più che abbastanza spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando iscrivetevi qua sotto raggiungiamo questi 1000 iscritti mancano 20 iscritti dai condividetelo anche con la nonna la possiamo fare e noi ci vediamo al prossimo video ciao